di nuovo bentornati in onda eccoci qui ci siamo lasciati qualche minuto fa ci siamo ci siamo occupati di medicina di benessere abbiamo parlato di osteoporosi abbiamo dato una ricettina pure per in vista delle vacanze delle vacanze di natale adesso invece voltiamo voltiamo pagina e torniamo a parlare con simone davoglio il capo redattore di gay press questa bellissima bellissimo blog che potete trovare online dovrebbe essere già pronto buonasera benvenuto simone buonasera ma non saluto anche i telespettatori a casa eccoci qui allora ogni tanto torniamo torniamo da te per fare qualche piccolo per fare qualche piccolo aggiornamento per monitorare un po la situazione come va fatti di cronaca di e di attualità da dove partiamo questa volta che cosa hai scelto per noi ma allora io partirei questa volta caro manuel con un argomento che abbastanza diviso non solo i gbt più ma un po tutta italia ovvero la raffigurazione della vergine maria quindi della madonna trans che è esatto e questo è un io l'ho definito un una rivisitazione provocatoria appunto che è avvenuta a berlino un attivista italo tedesco ha voluto posare in questo modo per appunto raffigurare una madonna trans anche per maggiore inclusione ora questo è un argomento che si che ha un po diviso a parte fatto che a me il termine divisivo non è che mi piace molto però è un argomento che è un po spinoso diciamo così no spinoso perché comunque andiamo a toccare la ma toccare la rigione la religione che vuoi non vuoi però al di là di quello che sia il nostro credo anche se non c'è alcun tipo di credo anche se secondo me nella vita si crede sempre in qualcosa ed è bello questo però bisogna sempre avere no sempre avere il rispetto per per l'altro è una cosa che diciamo sempre però bisogna ribadirla quindi questo già un primo ho fatto benissimo ho fatto benissimo ma non da ribadirlo anzi perché proprio questo è il problema che se vogliamo chiamarlo così perché l'85 per cento della popolazione italiana possa piacere o meno però crede nel appunto in gesù in dio e quindi diciamo che andrà a toccare questo argomento in questo modo per parlare l'uguaglianza potrebbe non essere il modo giusto di affrontare appunto l'uguaglianza per le persone lgbt più perché chiaramente molti commenti sono stati assolutamente negativi assolutamente io direi quasi la maggior parte esatto poi se hai avuto modo di vedere la notizia insomma di seguirci visto che molti commenti sono stati assolutamente negativi per chi ha fatto questo devo dire che non è piaciuta per niente no e poi ci sono ovviamente quella parte di persone lgbt più che invece ha detto che siccome c'è questa cosa che la religione la chiesa cercano di affossare lgbt più bisognava reagire in qualche modo io trovo sinceramente che non è il modo corretto di dimostrare che esistiamo perché esistiamo lo sarà un po certo che poi ci sono tanti modi no per lanciare esatto lanciare i messaggi insomma questo secondo me diciamo così poteva tranquillamente evitare si poteva si poteva dire in un altro modo poi si dà anche un'occasione soprattutto magari ecco per chi invece critica la comunità lgbt no chiaramente questi sono sono quegli episodi che poi passano come dire hanno più rilevanza purtroppo no il tra virgolette negativo viene viene saltato sempre di più anche uno degli ultimi gay pride dello scorso di quest'anno della scorsa estate a giugno adesso non mi ricordo bene la città ma ce ne siamo occupati anche con te per esempio un ragazzo che si era invece travestito da da gesù cristo si credo fosse milano se non vado errato sì mi sembra fosse milano però diciamo che questa meglio non mischiare no meglio non mischiare o comunque se si vuole manifestare per i propri diritti o comunque se si vuole urlare all'uguaglianza che è una cosa assolutamente corretta bisognerebbe farlo con un po più di conscienziosità nel senso essere un po più coscienti di quello che si vuole fare perché questo questa cosa la mia preoccupazione è che apre le porte per maggiori insulti tra virgolette verso tutti quei politici e quei partiti che non vedono l'ora no di trovare qualcosa che non va e questo è un modo appunto per soprattutto piacerebbe sapere se l'autore diciamo così di questa di questa idea sia credente o meno perché voglio dire no? lui non ha specificato ha semplicemente detto che ha voluto ritrarre così perché secondo lui essendo facendolo in questo modo c'era più inclusione verso tutte le tutte le persone tutti quelli che sono appartenenti alla comunità LGBT più ora comunque guarda eserviamo così quando ero piccolino mi dicevano scherza con i fanti lascia stare i santi direi che è il caso di rispolverare questi vecchi detti assolutamente sì ecco da questa notizia adesso invece ce ne andiamo in Canada perché che cosa è successo in Canada? ecco qui lo leggiamo insieme il Canada spazza via l'omofobia a suon di applausi Camera dei Comuni vota all'unanimità legge che viene a terapie di conversione diciamo che ognuno applaude un po' come vuole possiamo dire così Simone? sì diciamo di sì ultimamente questi applausi danno molto da parlare sì diciamo che si applaude più nelle aule parlamentari che non allo stadio ormai però vabbè tolto questo quella di prima appunto era una breaking news quindi un post di una rubrica che ho ideato io per andare a incentivare appunto la lettura di articoli brevi invece questo qua è un vero e proprio articolo che appunto racconta di come in Canada siano state tolte finalmente le terapie di conversione terapie che appunto venivano praticate su un DNA LGBT quindi le persone omosessuali e non solo appunto per convertirli quindi per far ritornare diciamo questi termini eterosessuali perché appunto c'era questa credenza sì l'abbiamo riscontrata sempre diciamo negli anni abbiamo avuto anche manicomi insomma pensavamo di aver fatto dei passi in avanti qualcuno ancora meno soprattutto in Canada adesso ce l'abbiamo fatta anche in Canada esatto in Canada l'hanno fatto e ciò che dispiace è che i nostri cugini quindi francesi hanno adottato la stessa tecnica quindi hanno anche loro fatto una legge a riguardo mentre in Italia le terapie di conversione non sono illegali non vengono più praticate come nei secoli scorsi ma se qualcuno dovesse praticarlo ad una GPT non sarebbe perseguita la legge perché appunto non sono vietate quindi non sono illegali quindi sarebbe carino se l'Italia magari intervenisse a riguardo chiaramente non è che sono incentivate però non sono neanche vietate questo è un messaggio che dovremmo far passare ci dovremmo riflettere perché poi si rischiano insomma poi si rischia di fare danni soprattutto guarda questo è un discorso che vale in generale vale in generale qualunque tipo di terapia ci sono i professionisti veri se qualcuno ha qualche difficoltà adesso di qualunque tipo no? diffidate sempre da questi ciarlatani ce ne siamo occupati anche noi abbiamo sentito curare i tumori con le erbe aromatiche con i fiori gente magari ecco depressa sempre con pozioni, lozioni, credenze a falsi miti a dei e quant'altro quando c'è un momento di difficoltà che sia fisica che sia psicologica ci sono tanti professionisti seri andate da loro lasciate perdere tutte queste false promesse che poi vi spielano pure un sacco di soldi stesso discorso anche per le cure di questo tipo bene quindi esattamente sì sono diventate ufficialmente illegali illegali scusate in Europa la cosa curiosa è che sia i conservatori che i liberali quindi sarebbe un po' la nostra destra e la nostra sinistra per intenderci si sono tutti quanti uniti per questo e questa è la cosa per rendere illegale questa è la cosa interessante una situazione che qua in Italia è molto complicata da trovare e invece sarebbe molto curioso e finalmente un passo veramente concreto e positivo verso la comunità LGBT se anche qui si unissero per questo ecco per rendere illegali anche in Italia chiudo scusami no no assolutamente questo è importante dal Canada invece dopo questa bella notizia che insomma ci tutela e appunto speriamo anche di di arrivare anche qui in Italia ce ne andiamo a Tokyo vediamo un po' a Tokyo invece che cosa che cosa è successo sì andiamo a Tokyo e anche qui c'è stato una bella notizia Tokyo approva le unioni civili dal 2022 e il Cile il matrimonio il matrimonio e qualitarie svolte svolte storiche dici un po' dici un po' esatto sì qua abbiamo due stati completamente opposti certo degli emisferi e tutto quanto che entrambi hanno fatto un passo quindi un'altra bella notizia un passo verso la comunità LGBT Tokyo da precisare che Tokyo non significa tutto il Giappone quindi solo la città di Tokyo solo la città di Tokyo ok ha deciso anzi meglio dire ha approvato le unioni civili quindi quelle che ci sono anche appunto in Italia già dal 2016 se non vado errato purtroppo in Giappone più di cento paesi quindi autorità locali non riconoscono comunque pienamente i diritti delle persone LGBT e quindi di matrimoni tra coppie dello stesso sesso quindi diciamo che Tokyo si ha fatto dei passi decisamente in avanti ma la restante parte dello Stato quindi del Giappone non è così gay friendly se vogliamo usare questo termine invece in Cile si è dimostrato quindi in Giappone siamo ancora un po' così così però nella città di Tokyo siamo un po' più vicini all'Italia siamo più o meno a pari merito perché hanno unioni civili come qua e invece in Cile sono decisamente più avanti sia di Tokyo che dell'Italia perché hanno deciso di approvare il matrimonio ugualitario è una legge che deve oltretutto essere solamente firmata dal presidente del Sebastian Pignera che è il presidente del Cile e il matrimonio ugualitario che appunto in Italia ancora non se ne parla e anzi sarebbe anche ora magari di fare qualcosa perché il matrimonio tra persone delle coppie tra coppie dello stesso sesso permette anche di adottare cosa che in Italia non è prevista invece adesso in Cile con questo passo avanti è un altro Stato che ci distanzia a livello di diritti civili ecco bene quindi abbiamo sicuramente tanto lavoro da fare però continuiamo come sempre a seguire vi seguiamo voi monitorate tutte le varie situazioni poi ogni tanto ci colleghiamo e diamo tutti gli aggiornamenti abbiamo seguito lo scorso anno tutto l'iter del DDTL ZAN sappiamo benissimo insomma come è andata a finire vedremo che cosa che cosa succederà la cosa bella diciamo del DDL ZAN secondo me Simone è che seppure non ha vinto nell'aula del Senato però ha vinto ha vinto per le strade ha vinto per le piatte esatto il DDL ZAN o DDL omotransfobia come lo vogliamo chiamare in Senato ha fatto esultare tutti come Euro 2020 con l'Italia per la sua bocciatura cioè tutti buona parte per la sua bocciatura e invece per le strade le persone sarebbero favorevoli per la maggiore tutela perché ricordiamoli io già lo dissi e anche tu oltretutto quando appunto ci siamo se ne occupavamo se ne occupavamo se ne occupavamo esatto che non andrebbe a tutelare solo le persone LGBT più ma anche maggiormente le donne e visto quello che è successo a Greta Beccaglia e i disabili quindi non è che è incentrato solo per per le persone LGBT più purtroppo però quando si parla politichese tra virgolette spesso si come no ce ne siamo occupati se non si occupai tante televisioni è stata fatta tanta tanta informazione mi ricordo insomma chi più chi meno però si insisteva proprio su questa inclusività che non era un decreto relegato alla comunità LGBT ma c'era particolare attenzione alle donne noi pure ci occupiamo spesso delle tematiche ricordanti ricordanti le donne ci occupiamo di violenza sulle donne io faccio parte di un'associazione che si occupa di questo ne abbiamo parlato in trasmissione quando è scoppiata la pandemia è stato uno dei primi argomenti che abbiamo che abbiamo trattato perché mentre tutti dicevamo state a casa che state al sicuro abbiamo subito pensato a quelle donne che invece magari erano a casa e avevano la cucina dentro casa perché poi la violenza sulle donne è un fatto è un fatto sociale e insomma è bello importante perché le donne vengono picchiate vengono aggadite proprio in quanto donne solo per questo motivo per cui insomma un disegno di legge forse ci avrebbe no anzi senza forse ci avrebbe sicuramente aiutato e poi uno sguardo soprattutto alla disabilità insomma un bel settore bello e importante io qui a Roma mi muovo con i mezzi e molte volte mi capita di vedere alcune persone con una disabilità motoria fisica che non riescono neanche a prendere e a prendere i mezzi e poi vogliamo parlare degli anni passati a scuola delle prese in giro chi aveva qualche disabilità qualcosa così insomma ne potremmo parlare per settimane ma certo ti ricordi che l'avevamo anche toccato l'argomento di quel ragazzo a Roma che era stato allontanato al parco al parco perché essendo disabile si era messo a giocare vicino a un ragazzo che sta facendo jogging e il ragazzo che sta facendo jogging lo ha insultato e aggredito perché proprio per la sua disabilità solo per quello esatto c'era questo ragazzetto di 12-13 anni tra l'altro che stava al parco ce n'era un altro più grande che si stava allenando magari un curiosito da questi attrezzi sapete che si portano al parco si era semplicemente avvicinato ed è stato allontanato a malo a malo modo con brutte parole andiamo avanti perché dicembre in particolare il primo dicembre ricorre come sempre la giornata contro la lotta all'AIDS quindi dicembre è un mese particolarmente sensibile ma diciamo tutto l'anno e abbiamo anche qui ecco qui AIDS è un nemico che fa ancora paura tutto quello che c'è da sapere e passi in avanti della medicina ogni tanto sento parlare di qualche vaccino sperimentale che ci dici Simone? Allora vi dico che innanzitutto questo qua è un articolo che ha fatto anzi RAF che si era collegato anche con noi qualche settimana fa sì lo salutiamo lo salutiamo ne approfittiamo e allora l'1 dicembre è stata la giornata internazionale mondiale e poi la lotta l'AIDS e tra le varie situazioni che ci sono quindi a parte i farmaci che sono usciti negli ultimi anni c'è anche quella appunto di un vaccino che appunto è in sperimentazione attualmente appunto ancora un vaccino diciamo tra virgolette in fase embrionale nel senso che non è ancora attivo quindi è ancora appunto in fase di sperimentazione è un vaccino mRNA contro l'HV che è un pochettino l'mrna un pochettino il vaccino quello che stiamo facendo noi per il covid-19 se non vado errato perché mRNA insomma è su quel filone là si presuppone e quindi per cercare appunto di andare a prevenire la contrazione di prevenire il contrario appunto l'HV perché ricordiamo che il virus è l'HV poi l'AIDS è quella che è poi la malattia è molto importante esatto è molto importante perché ancora notiamo soprattutto magari nelle associazioni che fanno assistenza per queste tematiche notiamo che c'è molta confusione ancora non è ancora ben chiaro come si trasmette quindi è ben importante l'utilizzo di tutti di tutte le precauzioni durante un rapporto sessuale assolutamente sì sia eterosessuale che non assolutamente sì questo non solo diciamo per l'HIV ma anche per tutte le altre malattie sessualmente trasmissibili che addirittura mi dicono le statistiche che durante la pandemia sono addirittura pensate un po' aumentate soprattutto nella semi-pandemia perché perché nei weekend magari ci si chiudevano cioè la sera ti ricordi c'era il lockdown alle 22 a mezzanotte e era che faceva si organizzavano diciamo così delle serate dei festini e c'è stato un bel aumento di malattie sessualmente trasmissibili che oltre all'HIV lo ricordiamo c'è la sipilide c'è la colonorea c'è la candida ce ne sono tantissime ce ne sono tantissime esatto c'è stato un aumento nel senso che sebbene comunque i casi rispetto a 10-20 anni fa comunque sono diminuiti perché comunque ormai si conosce ce ne parla siamo usciti anche un po' dal tabù non del tutto ma comunque di più esatto quindi però purtroppo i dati in Italia sono un pochettino armanti sia per quanto riguarda i casi di HIV sia per quanto riguarda i casi di sipilide che comunque nonostante appunto come dicevi tu la pandemia i casi sono comunque diciamo in aumento sull'anno precedente una cosa che mi preme un po' mi spiace anche dire è che parlando anche con insomma con mio compagno o comunque con persone anche più grandi di me a scuola soprattutto a scuola negli ultimi 10-15 anni se ne parla un po' troppo poco molto spesso infatti le domande su come prevenire l'HIV vengono proprio da ragazzi che sono appunto che hanno 15-16-17 anni che quindi vanno a scuola una volta mi hanno appunto spiegato raccontato ma l'hanno detto anche in televisione insomma che a scuola se ne parlava molto di più si affrontava molto di più l'argomento invece adesso sembra essere tornato un pochettino non dico tabù però sembra come se un po' un altro che facciamo ne parliamo non ne parliamo esatto per evitare di scendere una scomodità declassiamo ecclissiamo ecclissiamo e non va bene secondo me invece fa bene parlarne perché comunque i ragazzi le cose le scoprono anche da soli certo esatto quindi tanto vale magari anzi aiutarli a scoprirle poi sai cosa ci sono tantissimi centri in tutta Italia qui a Roma abbiamo il circolo Mario Mieli abbiamo il gay center fatto di professionisti noi abbiamo anche intervistati spesso da noi interviene uno dei volontari un bravissimo psicologo per cui se avete qualche dubbio qualche domanda trovate personale medico sanitario preparato che può chiarirvi su qualunque cosa e in più una volta a settimana se non sbaglio credo il giovedì ma insomma se andate sui vari siti delle vostre città li trovate c'è anche la possibilità di effettuare il test per l'HIV e per tutte le malattie sessualmente trasmissibili fatelo fatelo perché prevenire è sempre meglio meglio che curare bene esatto bene ok allora fatto questo questo focus sull'HIV adesso invece andiamo avanti perché sta spopolando nei teatri di tutta Italia lo scorso weekend era Napoli adesso torna nuovamente in scena a Roma all'off of theater in via Giulia eccolo qui Lorenzo Balducci Allegro non troppo la stand up comedy qui a Roma dal 17 al 19 dicembre poi vi daremo tutti gli aggiornamenti perché sono previsti anche altre date in giro in giro per l'Italia questo spettacolo Lorenzo stupendo scusami Simone non ti preoccupare stavamo parlando appunto di Lorenzo che spero anche di riuscire a intervistare presto allora sì ci sarà questo spettacolo vabbè a Roma è un gran ritorno perché ha già avuto un enorme successo nel mezzo di novembre e adesso tornerà questo weekend quindi da venerdì 17 a domenica 19 dicembre come dicevi tu all'off of theater in via Giulia 20 a Roma ed è uno spettacolo a tinte LGBT possiamo dirlo giusto ma nel senso che comunque racconta tramite comunque del canto comunque anche delle alle tutto quanto anche le difficoltà nel coming out e quindi come le persone LGBT vivono però non è uno spettacolo che va ad appesantirsi esatto è uno spettacolo che fa sorridere ma fa anche tanto riflettere in scena con Lorenzo Balducci scritto da Mariano Lamberti e Riccardo Pechini regia di Mariano Lamberti noi abbiamo un piccolo spezzone ce lo vediamo proprio per farvi vedere una piccola pillola poi torniamo torniamo a parlarne con Simone prego io sono timido cazzo guardate ho il complesso del culo grosso questo era è chiaramente un pezzetto abbiamo beccato una parte bella bella divertente però dicevamo c'è anche molto da riflettere sì 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 perché spesso quando magari qualcosa è divertente aiuta anche magari a far riflettere magari lo fa anche in modo migliore perché comunque andando alla scoperta di vizi e virtù appunto della comunità LGBT magari in modo anche un pochettino simpatico però poi quando si volta pagina e si va magari a raccontare un coming out si va a raccontare le difficoltà magari anche con un sorriso comunque si drammatizzando su quelle che sono magari sulle difficoltà delle persone LGBT aiuta magari maggiormente a far riflettere le persone infatti questo questo spettacolo ha avuto anche sold out a Milano a Bologna a Napoli scorso weekend a Napoli è andato ovviamente benissimo e c'è stato il pienone e quindi la replica che c'è a Roma dal 16 al 19 dicembre visto che c'è già stato a novembre sicuramente fortemente evoluta mi dicono esatto sì sì per chi non ci è andato direi che potrebbe essere un buon motivo per andarci assolutamente sì bene Simone grazie anche per questo bel consiglio sul teatro torniamo a teatro perché hanno riaperto e torniamo a battere le mani dove le dobbiamo battere l'ora mi chiamo Lorenzo oggi niente non ti preoccupare siamo stati distratti da Lorenzo Baltucci Simone grazie ancora per essere stato con noi buon lavoro noi ci sentiamo presto per tutti gli aggiornamenti va bene va bene grazie a te Manuel buone feste buone feste anche a casa grazie ancora Simone Davoglio capo redattore che è presa ciao ciao Simone ciao grazie grazie eccoci qui noi siamo arrivati in chiusura siamo arrivati in chiusura proprio prima di chiudere proprio prima di chiudere ruba ancora qualche minuto non me ne vogliano i colleghi il resto ancora sul teatro vi voglio far vedere quest'altro spettacolo invece è un musical Aladdin il musical il musical geniale geniale scena a Roma presso il teatro Brancaccio dovremmo avere anche la locandina dunque per scritto e diretto da Maurizio Colombi musiche e arrangiamenti Davide Bagnasco Paolo Barillari e Alessandro Procaci ecco qui grazie a regia questa è la è la bellissima locandina dal 2 dicembre al 9 gennaio durante le feste magari vi divertite così abbiamo pure anche un pezzettino lo facciamo vedere e poi torno da voi ci salutiamo grazie a tutti grazie a tutti e allora andate a teatro divertitevi termina qui questa puntata di Verso Sera io vi ringrazio per averci scelto anche oggi ci vediamo martedì prossimo puntuale alle 17 sempre qui su Cusano Italia TV buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti